importantissimo abbiamo il vela day è una due giorni una due giorni dove il praticamente tutti i circoli velici apriranno le loro porte per poter fare provare e potranno così far conoscere il mondo velico a partire dalle piccole imbarcazioni per i più piccoli ma perché no anche avvicinare i loro genitori e anche gli adulti altro appuntamento importante che ci aspetta a metà giugno dal 16 al 19 di giugno genova con una regata test un prodromo della regata che vedrà in arrivo nel 2023 le più belle barche del mondo dal 16 al 19 come dicevo a genova in porto antico arriveranno queste imbarcazioni alcune di queste imbarcazioni che saranno impegnate in una regata che è la regata the ocean race europe che è partita da loriana in francia facendo tappe intorno alla penisola iberica passando a portogallo da dove è partita l'ultima tappa che arriverà a genova appunto 16 al 17 che dire di altro genova si presenta sempre e si presenta sempre in gran lustro ed è con grande rispetto nel nei confronti dei velisti della vede velisti mondiali altro aspetto importantissimo che ci tengo a che ci tengo così a rimarcare è che l'attenzione della prima zona della federazione orientata ai disabili e ai portatori di handicap ci aiuterà anche nel giorno del vera day il vela day durante il giorno del vera day in porto antico ci sarà una base nautica allestita dalla lega navale italiana che darà la possibilità ai disabili di provare le imbarcazioni praticamente pensate e costruite per loro i famosi ansa 303